Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo qui, Signore e Spirito Santo, trattenuti dall'enormità del nostro peccato, ma riuniti in maniera speciale nel Tuo nome. Vieni, renditi Tu presente a noi, degnati di penetrare nei nostri cuori. Insegnaci cosa fare, mostra dove incamminarci, opera Tu ciò che dobbiamo fare. Sii Tu solo l'ispiratore e l'autore dei nostri giudizi, Tu che solo con il Padre e il Figlio Suo possiedi il nome glorioso. Tu che ami tanto l'equità, non lasciare che turbiamo la giustizia. Il peccato non ci porti all'ignoranza. L'umana simpatia non ci pieghi. Non ci corrompa la preferenza per l'ufficio o le persone. Ma legaci a Te efficacemente con il dono della sola grazia Tua, perché siamo una sola cosa in Te, e in nulla ci discostiamo dalla verità. E così, raccolti nel Tuo nome, in tutto possiamo custodire la giustizia moderata con la pietà. Perché adesso, in nessuna nostra decisione, noi sentiamo diversamente da Te, e nel futuro possiamo conseguire il premio eterno per il bene operato. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Grazie a coloro che mi hanno coinvolto in questa esperienza di incontro, di confronto ecclesiale, che è la vostra settimana della fede, qui nella Diocesi di Palermo. In particolare grazie all'Arcivesco Monsignor Lorefice e anche a Don Carmelo Torcivia, che si è fatto suo tramite quando mi ha fatto l'invito per questa sera. Scorrendo i titoli delle serate programmate quest'anno, mi sono reso conto che il tema della fede viene sempre calibrato all'interno dell'epoca che stiamo attraversando, del tempo che stiamo vivendo. Vale a dire i decenni, a cavallo tra la fine del ventesimo secolo e gli inizi di questo nostro ventunesimo secolo. Papa Francesco attribuisce giustamente a questo nostro tempo l'importanza di una vera e propria svolta epocale, all'interno della quale il mondo intero, e non di meno la Chiesa, fanno i conti con profondi cambiamenti. Molti altri osservatori parlano a questo proposito di crisi, crisi economica, crisi culturale, crisi valoriale, anche crisi religiosa e perciò crisi della fede e crisi del cristianesimo. Così si diffonde sempre più un certo senso di desolazione, come ha detto il Papa, durante una conversazione con i gesuiti peruviani, nel suo ultimo scorso viaggio in America del Sud, conversazione che è stata recentemente, soltanto sabato scorso, pubblicata sulla civiltà cattolica da padre Antonio Spadaro. Desolazione. Desolazione dalla quale tuttavia ci si può smarcare se si recupera il senso critico che mi pare costitutivo della stessa fede cristiana. Di fatti la crisi sta nei cromosomi del cristianesimo, giacché esso fu, già duemila anni fa, non semplicemente spettatore, ma anche causa del tramonto dell'evo antico, dell'epoca antica. Da quel momento la crisi non ha più finito di travagliare il cristianesimo stesso e la sua storia, causando un susseguirsi incalzante di autunni e di primavere. Pensiamo per esempio a ciò che accadde in Europa 500 anni fa con la riforma protestante e con la riforma cattolica. La fede cristiana può entrare in crisi, certamente. La secolarizzazione ce lo dice in faccia senza troppi complimenti. Ma anche la fede cristiana è motivo di crisi, anzi deve continuamente mettere in crisi il mondo e i suoi sistemi sociali. La fede, perciò, non soltanto viene messa in crisi, o non soltanto può essere l'antidodo alla crisi attuale, ma anche e soprattutto deve essere crisi essa stessa. Un'altra crisi, o più precisamente forse una crisi altra. Se non mette in crisi i soggetti che la professano, i soggetti individuali, ma anche e soprattutto quelli comunitari, se non causa crisi, se non induce, cioè al discernimento, perché crisi fondamentalmente condivide il suo senso etimologico proprio con quest'altro termine, condiscernimento, se la fede, dico, non diventa crisi essa stessa, se non diventa, cioè discernimento, anche spirituale, della realtà e di ogni suo ambito, essa non è più quello che fu agli inizi e smette di essere motore della storia, produttrice di cose nuove. Immagino che la scorsa settimana, nella cornice della vostra assemblea pastorale diocesana, siano stati messi in luce i criteri teologici e spirituali, dico spirituali in senso forte, radicale, i criteri, cioè, pneumatici, per operare il discernimento necessario a vivere insieme la fede oggi. E quando si tratta di vivere insieme la fede, allora si tratta di sperimentare la vita ecclesiale e perciò l'impegno pastorale, il quale appunto non può che essere comunitario, e perciò plurale, dialogico, soprattutto concreto. Quella della concretezza mi sembra l'impronta che si è voluta dare alla riflessione sulla fede quest'anno, in questa vostra settimana. Per tale motivo si impone subito all'attenzione di chi legge il programma della settimana una certa salutare propensione, direi, induttiva, che ci spinge a parlare e a pensare a partire dal vissuto di alcuni esemplari testimoni della fede. Tra questi anche il Beato Pino Puglisi, su cui, o a partire dal quale, dovremmo riflettere stasera. Vale per lui in particolare quella sorta di disambiguazione dei termini. Così si legge quando si fanno certe ricerche in internet, che so io in Wikipedia e così via. Disambiguare il termine. Ci sono parole che possono significare più cose diverse. Dico questa disambiguazione dei termini che è già nel titolo assegnatomi per stasera. Don Pino Puglisi, la testimonianza martiriale della fede. La testimonianza martiriale. La testimonianza quella di tipo martiriale. Questa disambiguazione richiama subito l'attenzione sulla peculiarità e direi anche sull'eccellenza della testimonianza credente di Don Pino, che di fatto è culminata nel martirio. Parlare di eccellenza del martirio potrebbe far alzare il sopracciglio a qualcuno. Per questo reputo utile una premessa. Per ricostruire e raccontare attendibilmente la vicenda di un testimone della fede bisogna prendersi carico di una particolare dialettica, quella tra continuità e discontinuità. Continuità innanzitutto, cioè stretta connessione, inevitabile influsso reciproco, interdipendenza tra l'individuo e l'ambiente sociale a cui questo fa riferimento, tra il singolo credente e la comunità ecclesiale di cui è membro. Ma pure discontinuità, cioè capacità in obbedienza a Dio di eccellere appunto rispetto a quel medesimo ambiente di riferimento, di emergere in e da quella stessa comunità di appartenenza. Difatti un testimone della fede non cessa mai di essere situato nella storia comune degli uomini. Egli è e rimane impastato della umanità che condivide con coloro che vivono assieme a Lui, nel posto e nel tempo in cui Egli vive e opera. E tuttavia è anche toccato da Dio, interpellato, guidato dal Signore, che intrattiene con Lui un rapporto potremmo dire grazioso, cioè di grazia. Il Dio gli si fa compagno nel cammino della vita. In questo senso l'esperienza credente si configura in un rapporto di stretta amicizia con Dio. Credere, aver fede, vuol dire anche confidare nel Signore, affidarsi a Lui, con lo stesso trasporto del salmista che si rivolgeva a Dio con parole talmente rispettose da risultare apofatiche. Ma anche così ardite da azzardare quasi una pretesa di possesso nei suoi riguardi. O Dio, tu sei il mio Dio. In questa ripetizione orante, in questa tautologia, non c'è nessuna spiegazione dottrinale del mistero di Dio. Eppure il salmista, l'orante biblico, quasi si è in possessa del Signore. Anche se lo fa, dicevo appunto, con il trasporto tipico di chi ama, di chi dice all'amato, tu sei mio, perché sei tutto per me e tu solo mi basti. In realtà, già in questa attitudine relazionale, vissuta in riferimento a Dio, consiste la santità. La quale, come spiegato in Lumen Gentium, numero 40, è una prerogativa di tutti. La vocazione alla santità è universale. Ma essa non matura in tutti allo stesso modo. ognuno per il luogo e l'epoca in cui vive, per le condizioni in cui si trova e per i condizionamenti, positivi o negativi, che riverberano su di lui proprio da quelle condizioni, per la sensibilità personale che ha, per il suo profilo caratteriale e intellettuale, per la formazione culturale che ha avuto, per tanti altri fattori umani, ma anche e soprattutto per il particolare carisma pneumatico ricevuto in dote dal Signore, ascolta la chiamata all'amicizia con Dio in maniera peculiare e risponde in termini, ancora una volta, molto specifici. Se è vero che Dio chiama tutti, non tutti però sentono o non tutti rispondono e non tutti sentono e rispondono allo stesso modo. La vicenda di un testimone della fede, intendendo la fede come affidamento al Signore, fiducia in Lui, confidenza con Lui, la vicenda, dico, di un testimone della fede, vista in questa prospettiva, appare come una sorta di matassa, arrotolata di fili diversi ma legati insieme. Per dipanarla occorre discernere tra i vari fili senza compromettere i nodi in forza di cui essi stanno insieme. Si tratta di distinguere senza distanziare ciò che di epocale, di sociale, di culturale, di ecclesiale anche, accomuna a quel credente agli altri suoi contemporanei. E ciò che di grazioso, di carismatico, di pneumatico, costituisce la radicale novità del suo modo di lasciarsi incontrare da Dio. Si tratta, insomma, di verificare l'intreccio tra continuità e discontinuità. La verifica, nella maggior parte dei casi, mostra che la continuità sovreccede rispetto alla discontinuità, almeno dal punto di vista quantitativo. Sono più le cose che si hanno in comune con gli altri, con l'ambiente in cui si vive, con la comunità a cui si appartiene, rispetto ai motivi per i quali ci si distingue. La discontinuità, invece, si esprime spessissimo in una semplice sfumatura, che tuttavia imprime una nuova coloritura all'esistenza di quel credente. Il contesto della sua formazione umana e cristiana, le sue letture, le sue devozioni, il suo impegno sociale ed ecclesiale, risultano gli stessi di quelli di tanti altri cristiani, suoi conterranei e suoi contemporanei. Ma, nella sua vicenda, si finisce per registrare anche un qualcosa di originale, che chiaramente fa pensare a un suo incontro particolare con Dio. Quando il testimone della fede è un martire, l'elemento di discontinuità può risultare addirittura, direi, puntiforme, una solta di fulmine, a volte accelsereno. Può risolversi talvolta persino in un guizzo inopinato. Di fatti il martirio, inteso in senso cristiano, è soltanto e semplicemente il culmine di una esistenza credente vissuta, direi, con ordinaria, feriale testimonianza del Vangelo. Talvolta è, dicevo, questione di un momento, sopraggiunge all'improvviso, se non del tutto inaspettato, certamente non voluto, e meno che meno masochisticamente voluto, non eroicamente cercato. Anzi, come si legge in alcuni atti del martirio dei cristiani dei primi secoli, spesso il martirio stesso accade nonostante i tentativi e persino gli sforzi per evitarlo. E' sempre stato così, e ancora oggi così. Ne è significativa riprova proprio il martirio di Dompino, ucciso qui a Palermo, ormai 25 anni fa, il 15 settembre del 1993, dai killer di mafia a Brancaccio, dove gli era parroco. Pure in questo caso il martirio è questione di un attimo, anche se questo ultimo attimo della sua vita risulta coerentissimo a una esistenza credente trascorsa tutta quanta a ragionare, ad argomentare, ad annunciare, a dialogare. Non si può dire che Don Muglisi sia andato con sacro furore incontro a quella sua morte violenta. Don Muglisi, sorridente di fronte ai suoi assassini, mentre sussurrava che li stava aspettando, quella sua morte violenta non se l'è cercata, ma neppure l'ha evitata. L'ha semmai sperimentata appieno. Con tutto il suo coraggio mite, direi tanto grande, persino gigantesco, quanto più paragonato alla viltà dei sicari, capaci di agire solo orchestrando l'agguato, facendo leva sul fattore sorpresa, dissimulando sino all'ultimo le loro reali intenzioni contro di lui. Don Muglisi, l'ho appena ricordato, muore a Brancaccio. Tutti voi lo sapete, qui è la sua città. Muore a Brancaccio. E questo è un fatto importantissimo. Costituisce l'elemento discontinuità che conferisce qualità nuova a tutta la sua vicenda. Un fatto straordinario che la consegna per sempre alla nostra memoria ecclesiale. Io non reputo che Don Muglisi sarebbe stato quello che è oggi per noi, soprattutto per questa chiesa di Palermo, anche se non fosse stato ucciso da uomini di mafia a Brancaccio. La sua morte, se davvero è martirio, è un evento che illumina da parte di Dio la sua vita di cristiano e la sua missione di prete a Palermo. E' una luce che imprime e lascia trasparire colori che altrimenti non sarebbero mai più emersi nella sua storia personale. Supporre che la morte martiriale del parroco di Brancaccio non abbia peso specifico nell'insieme della sua vicenda equivale a dire che la croce del Golgota non specifica la missione di Gesù di Nazareth. Ma è anche vero che Don Puglisi ha maturato il suo profilo di testimone credente già prima di arrivare all'appuntamento col martirio, già prima di arrivare a Brancaccio. La sua icona di testimone credente va configurandosi lungo tutto un cammino fatto nella Chiesa e con la Chiesa palermitana. E mi pare che nel processo di formazione della sua personalità credente si debba registrare soprattutto un imprinting che è quello direi interpretato con una certa attenzione con una certa esistenza proprio dalla Chiesa di Palermo nel dopoconcilio. È l'imprinting conciliare appunto. È stato infatti il Vaticano II a rimettere in luce il profilo obbedienziale della fede presentandola specialmente nella Dei Verbum come l'ascolto fiducioso con cui il credente deve accogliere e vivere il dirsi di Dio. Questo input conciliare ha avuto grande importanza per Don Puglisi. Don Puglisi di fatti viene ordinato presbitero nel 1960 e vive i suoi primissimi anni di ministero praticando il modello e l'ideale di prete appreso in seminario negli anni precedenti al concilio negli anni dell'episcopato del cardinale Ruffini. L'episcopato di Ruffini aveva avuto un tratto connotativo che vale la pena ricordare perché è quello che a mio parere maggiormente impressionò Don Puglisi. l'attenzione organizzata e strutturata ai poveri espressa nelle famose cittadelle realizzate dal cardinale nei decenni del suo episcopato cittadelle della carità sono due o tre ora non ricordo bene certamente due il villaggio Santa Rosalia e così via queste esperienze rimasero come una sorta di modello per il parroco di Brancaccio un modello ovviamente da adattare e da modernare magari anche da smarcare rispetto al semplice assistenzialismo paternalistico che poteva forse connotarle non a caso Don Pino già nel 1992 cerca lì a Brancaccio un terreno per costruirvi un complesso parrocchiale concepito appunto come una cittadella vera e propria una cittadella della vita cristiana e perciò anche come una città aperta perché la vita cristiana non è esclusiva e perché la comunità ecclesiale non è isolata ma già prima che a Brancaccio il giovane Don Puglisi fa i conti tante volte con la povertà urbana di Palermo e delle zone confinanti limitrofe a Palermo dapprima a Settecannoli nel quartiere Scaricatore ancora diroccato dalle bombe della seconda guerra mondiale poi a San Giovanni delle Brosi già ai confini di Brancaccio e poi ancora a Godrano il fatto di essere mandato in parrocchie periferiche lo abitua alla missione gli conferisce cioè un habitus missionario gli infonde una abitudo missionaria in latino soprattutto nel latino ecclesiastico ed ecclesiale abitudo significa relazione che so io nel documento conciliare dedicato al rapporto tra il cristianesimo tra la chiesa e le cosiddette altre religioni in latino si usa appunto l'espressione de abitudine ecclesie cum della relazione della chiesa con le altre religioni è proprio questa abitudo missionaria che Don Pino assorbe già nei primi anni del suo ministero una attitudine relazionale una spiccata propensione a dialogare con tutti anche con chi ormai da tempo è ormai senza voce così Don Pino parroco a Godrano può dire in un consiglio pastorale sono parole sue che occorre passare da una pastorale di difesa a una pastorale missionaria davvero ha e vuole contagiare agli altri con i quali lavora in parrocchia questa attitudine relazionale questa abitudine missionaria già in quegli anni Don Pino entra in contatto con Placido Rivilli un francescano minore che qui a Palermo aveva fondato un movimento laicale la crociata del Vangelo oggi ridenominata anche presenza del Vangelo e che nei primi anni cinquanta aveva avviato anche un istituto secolare femminile le missionarie del Vangelo cui aderivano personalità spirituali e culturali direi dal tratto nitido deciso come Lia Cerrito poi collaboratrice dello stesso Don Puglisi Don Pino simpatizza per il movimento e ne frequenta i cenacoli sia come uditore sia come relatore e predicatore quando il cardinale Pappalardo detterà l'epitaffio da incidere nella pietra tombale di Don Pino non a caso lo definirà missionario del Vangelo io penso che Pappalardo subito dopo l'assassinio di Don Pino dettando questo epitaffio si ricordasse proprio del fatto che nella missione del Vangelo nella crociata del Vangelo nella presenza del Vangelo egli era stato coinvolto per tanti anni il carisma principale del movimento di Rivilli era appunto l'ascolto la meditazione e lo studio della parola biblica questa attitudine all'ascolto della parola da cui scaturisce la fede non dobbiamo dimenticare che l'esperienza credente la fede viene già secondo il Nuovo Testamento già secondo San Paolo proprio dall'ascolto di Dio che parla a noi questa attitudine all'ascolto della parola è il motivo ispiratore della testimonianza credente di Don Puglisi lungo l'intero arco del suo ministero fino a Brancaccio la prova è costituita dallo spirito profetico che riaffiora continuamente nei gesti che egli sceglie di compiere lì a Brancaccio lungo via Giafar tra le case di via generale Azzon come pure nelle prediche dal pulpito di San Gaetano in una omelia del 20 agosto 1993 ormai è vicino il fatidico 15 settembre ribadendo la sua condanna contro la violenza dei boss che taglieggiavano e intimidivano la gente di Brancaccio Don Puglisi ricordava che anche Costoro anche i mafiosi sono persone battezzate e che perciò sono parole sue sono figli di questa chiesa e continuava così mi rivolgo ai protagonisti delle intimidazioni che mi hanno che ci hanno bersagliato parliamone spieghiamoci vorrei conoscervi e conoscere i motivi che vi spingono a ostacolare chi cerca di educare i vostri figli al rispetto reciproco ai valori della cultura e della convivenza civile queste le sue parole era un appello alla conversione un annuncio di speranza cristiana rivolto anche ai più incalliti peccatori che però venne frainteso come una minaccia in codice come una criptica dichiarazione di guerra ai mafiosi come una sfida lanciata al boss del quartiere in questa manciata di parole quelle che ho citato però noi possiamo trovare lo spunto per rievocare qui brevissimamente tre questioni tutt'oggi aperte nell'ambito della riflessione teologico-pastorale sul rapporto tra prassi ecclesiale e mafia potremmo dire resistenza cristiana e mafia o alla mafia e ancora per enucleare tre criteri significativi pastorali la prima questione è quella del linguaggio ecclesiale sino a qualche tempo fa si insisteva molto e criticamente sul silenzio delle chiese specialmente di quelle del nostro meridione riguardo al fenomeno delle mafie quando Don Puglisi è prete a Palermo il silenzio è una questione che viene via via superata nel 1964 di fatti il cardinale Ruffini direi per la prima volta ma tardivamente rispetto al decorso del suo episcopato qui a Palermo scrisse in una lettera pastorale della mafia come associazione a delinquere quali che fossero le intenzioni di Ruffini di fatto così si interruppe il silenzio direi istituzionale che pure quel vescovo aveva sino ad allora mantenuto da quel momento in poi comincia qui in Sicilia il pubblico discorso ecclesiale sulla mafia ma si apre anche la questione del linguaggio per decenni uomini di chiesa e intellettuali cattolici dopo avere mantenuto direi un silenzio forte tombale un assordante silenzio parleranno invece di mafia dai pulpiti delle chiese e sulle pagine dei giornali lasciandosi però spesso stordire da una certa retorica più o meno meridionalistica più o meno sicilianistica a volte anche più o meno giustizialista e appiettandosi perciò al linguaggio tecnico di magistrati di funzionari di polizia di giornalisti talvolta persino entrando nel coro dei professionisti dell'antimafia di cui con ironia forse non dosata parlò anche Leonardo Sciascia senza insomma riuscire a elaborare un linguaggio peculiare ricco delle parole del Vangelo e della tradizione ecclesiale ancora oggi spesso in ambito ecclesiale si parla di mafia con un linguaggio che non riesce a valorizzare il significato biblico delle parole usate facendo confusione tra legalità e giustizia tra giustizia e santità o ancora tra martiri della fede ed eroi civili in realtà la sostanza di quelle parole e le persone dietro quelle espressioni possono ben essere le stesse legalità e giustizia possono davvero essere la medesima cosa eroi della società in una terra di mafia e martiri della fede possono certamente coincidere ma il valore il significato delle parole rimane in ogni caso specifico e varrebbe la pena ricordarlo quando si formula un discorso ecclesiale riguardo alle mafia eppure un timbro nuovo era venuto emergendo a partire già dal 1982 allorché il cardinale Pappalardo durante il funerale del generale della chiesa nella omelia con la famosa citazione sagunto e spugnata mentre Roma discute aveva proferito parole sferzanti sul tema della mafia la mafia aveva detto in quella predica è un demone dell'odio è l'incarnazione stessa di Satana si sta sviluppando una catena di violenze e di vendette tanto più impressionanti perché mentre così lente e incerte appaiono le mosse e le decisioni di chi deve provvedere alla sicurezza e al bene di tutti quanto mai decise invece tempestive scattanti sono le azioni di chi a mente volontà e braccio pronti a colpire la velocità della mafia nell'agire la lentezza degli altri in un colpo solo la chiesa in questa occasione i funerali del generale dalla chiesa era tornata a parlare nel 1982 contro la mafia ma anche contro lo stato mi pare che da troppo tempo si mostrava inadeguato e inadempiente e parlando quella chiesa di Pappalardo dava un suo contributo a che si muovessero finalmente le acque nella lotta alla mafia non dobbiamo dimenticare che la legge con cui si aggiunge all'articolo 416 bis del codice penale il riconoscimento e il sanzionamento del reato di associazione di stampo mafioso venne approvata dal parlamento italiano proprio il 13 settembre del 1982 Pappalardo aveva predicato nei termini che ho citato ai funerali del generale dalla chiesa il 3 settembre con la sua omelia nella parrocchia di San Gaetano a Brancaccio quelle parole che prima ho citato Don Puglisi supera almeno a mio parere persino la posizione del cardinale Pappalardo e si colloca sulla scia di Giovanni Paolo II che il 9 maggio del 1993 ad Agrigento aveva gridato ai mafiosi siciliani il suo appello convertitevi con questo grido iniziano un nuovo linguaggio un nuovo discorso ecclesiale riguardo alla mafia la testimonianza martiriale di Don Puglisi è la prima significativa evoluzione dell'appello del Papa Polacco perché prolunga l'appello di Agrigento in un certo senso pure lo oltrepassa anche Don Pino infatti non si limita più a discutere sui mafiosi ma parla ai mafiosi discute con loro abbiamo visto abbiamo sentito dice venite spieghiamoci chiariamoci davvero tra di noi parla con loro per invitarli al dialogo e quindi a una conversione ponderata a una conversione scelta con convinzione per il bene futuro dei loro stessi figli abbiamo sentito mi dovete spiegare perché se io lavoro per il futuro dei vostri stessi figli voi mi dovete dare addosso scelta per il bene di se stessi e dei propri figli questa conversione e non più per paura di una qualche conseguenza fatale che fosse la reazione dello Stato della Polizia della Magistratura o la reazione di Dio il castigo di Dio di cui aveva parlato Giovanni Paolo II ad Agrigento parole di dialogo quelle di Dompino Puglisi anche se non c'è in esse nessun irenismo nessuna facile pacificazione non per niente i graviano le percepirono come parole per loro scomodo e per loro pericolose la seconda questione è quella dell'impegno pedagogico ho appena detto che la questione del silenzio ecclesiale riguardo alla mafia può essere ormai consegnata alla ricerca storica da più di 30 anni si va sviluppando un certo discorso ecclesiale sul fenomeno delle mafie che spesso nelle prediche soprattutto dei pontefici nei documenti episcopali incoraggia la comunità credente a una resistenza peculiarmente cristiana tuttavia da decenni si rischia di essere passati dal silenzio di prima alle parole solo alle parole alle sole parole nel senso che il magistero pubblicato nei documenti o riecheggiato sui media di volta in volta non riesce a cambiare lo stato delle cose c'è un deficit direi performativo del magistero e perciò del discorso ecclesiale questo discorso in altri termini purtroppo stenta a tradursi in azione in prassi pastorale e viene ancora misconosciuto non tanto da coloro che sono critici nei confronti della chiesa importa poco che qualche maestro di pensiero continua a rimproverare alla chiesa i suoi responsabili pastorali di tacere troppo riguardo alla mafia nelle omelie e in altre occasioni importa piuttosto che per le strade delle nostre città e dei nostri paesi nel meridione d'Italia in particolare per le strade di Palermo e di Napoli di Casal di Principe e di Crotone di Corleone qui in Sicilia o di Africo in Calabria questo discorso non riesca a balzare fuori dalla carta cioè non venga accettato ascoltato praticato da chi fa parte della comunità ecclesiale e anche da coloro ai quali questo discorso è rivolto cioè gli uomini e le donne di mafia deve preoccupare che il discorso cristiano sulle mafie sia rimasto troppo a lungo e rimanga spesso ancora oggi solo sulla carta e non si traduca in un respiro pedagogico capace di far crescere generazioni nuove di credenti con il linguaggio nuovo di Don Puglisi quello che abbiamo ascoltato che è del resto un linguaggio di timbro profetico ma già innestato di parole più laiche a cominciare da quelle che esprimono il senso stesso della legalità e del valore del bene comune venite spieghiamoci il futuro dei nostri figli l'educazione la cultura e così via dico con questo linguaggio nuovo di Don Puglisi si deve continuare a elaborare il suo stesso progetto formativo per piccoli e grandi per giovani e adulti per gruppi e famiglie nelle parrocchie e nelle associazioni con una sistematica catechesi direi interattiva il più possibile pratica per giungere a motivare e a contagiare nuovi stili di vita coerenti al Vangelo alla fine il silenzio da infrangere è quello della inerzia e del disimpegno il linguaggio da parlare è quello dei fatti Don Puglisi lo spiegava ai suoi collaboratori la frase che è diventata un refrain insistente qui a Palermo in Sicilia ormai in tutta Italia se ognuno fa qualcosa si può fare molto fare la terza questione è quella del metodo pastorale dalla testimonianza martiriale di Don Puglisi considerata nel suo complesso e nel suo drammatico culmine emergono di fatto tre importanti criteri pastorali un primo criterio li elenco li dico prima in latino perché mi suona come dire più musicale ma subito spiego il criterio del sub evangeliluce il criterio dello stare sotto la luce del Vangelo e del leggere la nostra stessa storia i fatti che ci accadono la vita delle nostre giornate alla luce del Vangelo stesso e il concilio Vaticano II che ce lo insegna e ce lo suggerisce nel numero 46 della Gaudium et Spes Don Pino impostava il suo servizio pastorale a partire dal discernimento perché questo significa mettersi sotto la luce del Vangelo o leggere tutto alla luce del Vangelo praticare il discernimento che è operazione non sociologica ma spirituale e pastorale da esercitare in forza della parola assunta come chiave di lettura delle nostre situazioni e della nostra condizione al discernimento Don Pino accompagnava peraltro la preghiera anch'essa fatta con la parola di Dio come leggiamo nei suoi appunti in una sua annotazione leggiamo questo dacci il nostro pane quotidiano che significa si chiede lui stesso e spiega intanto chiediamo al padre che ci dia il pane nel linguaggio biblico significa il sostentamento quotidiano tutto ciò che è indispensabile per la nostra vita di ogni giorno ma pane aggiunge anche nel senso dell'esigenza di una vita nuova altra quindi il pane della parola con la P maiuscola dacci il pane della parola così annotava Don Pino in questa prospettiva egli invitava i suoi parrocchiani a progredire dal discernimento alla conversione come racconta ai suoi giovani un'altra delle sue annotazioni un giorno una signora mi dice non posso venire al cenacolo se continuo ad ascoltare la parola di Dio che lei mi predica la coscienza mi dice che devo perdonare chi ha ucciso mio figlio e io non ho la forza di farlo quindi meglio che non vengo più e risponde alla signora Don Pino lei continua a venire il signore le suggerirà il modo e continua a raccontare Don Pino capitò infatti che qualche tempo dopo la madre dell'assassinio del figlio di quella signora scivolò davanti alla casa della signora vuol dire che erano peraltro vicini di casa nello stesso quartiere del resto la quale signora uscì e la soccorse accogliendola in casa sua così la perdonò e l'abbracciò sembra uno degli aneddoti dei detti cosiddetti dei padri del deserto sembra uno dei racconti dei cassi dimmi che so io raccolti da Martin Buber è bello secondo criterio il criterio dell'ab intramundi sub luce vangeli ab intramundi cioè dal di dentro del mondo anche questa è una lezione conciliare il numero 31 di Lumen Gentium dal di dentro del mondo che è ormai il posto di Dio stesso che vuol dire dal di dentro del mondo vuol dire lì dove c'è il centro magmatico infuocato l'abico del mondo stesso del nostro pianeta terra come racconta Stevenson nel suo romanzo Viaggio al centro della terra significa questo? no significa il posto di Dio stesso il di dentro del mondo il posto in cui ormai Dio stesso si è collocato venendo in Cristo Gesù per le strade nelle periferie a contatto con la gente faccia a faccia con le persone a testa alta per dirla con il titolo di una biografia di Don Pino pubblicata dalla giornalista Bianca Stancanelli con l'editrice Inaudi nel 2003 questo stare dentro il mondo in seno al mondo per Don Pino non è un limite ma piuttosto una possibilità positiva una chance come leggiamo nella trascrizione delle sue catechesi sono ancora parole sue la speranza per San Giovanni sta commentando un brano di San Giovanni la speranza per San Giovanni non va apposta al di là del mondo anche se lo trascende ma è nel mondo come occasione di avanzamento come possibilità di miglioramento degli uomini ed è un comune e comunitario impegno missionario la speranza un impegno che la parrocchia deve adempiere superando ogni sorta di clericalismo e semmai lasciandosi avvincere da uno spirito come lui lo chiamava samaritano guardate il concilio c'entra molto alla fine del concilio proprio alla fine nel 1965 l'8 di dicembre il papa Paolo VI che conclude quel concilio spiega a tutti qual è stato lo spirito l'attitudine spirituale principale dei padri conciliari che hanno realizzato il concilio in questi anni lo spirito samaritano la spiritualità del buon samaritano e anche per Don Pino funzionava ed era importante questo spirito samaritano sono parole sue chiesa di frontiera parole sue di quegli anni noi ci siamo abituati a queste parole solo di recente perché i media le rimbombano e le pubblicizzano e sono parole dell'attuale pontefice chiesa di frontiera pronta a farsi carico dell'uomo che vive che soffre che muore decisa sempre a essere dalla parte dell'uomo su cui volto brilla l'immagine del creatore e continua nella parrocchia tutta la pastorale dovrebbe essere attraversata dalla linea vocazionale e missionaria tutti infatti chiamati perciò tutti mandati terzo e ultimo criterio per concludere il criterio missio et comunio missione e comunione o anche missio est comunio il latino est significa e con l'accento voce del verbo essere missione e proprio comunione la parrocchia missionaria è secondo Don Puglisi espressione di una chiesa non autorreferenziale non autosufficiente finalmente relazionale come gli spiega in una serie di coppie di voci verbali che direi si desacralizzano a vicenda così scrive la chiesa è un'assemblea di persone può essere edificata solo pregando e studiando non solo pregando ma anche studiando non solo studiando ma anche pregando voci verbali importantissime sacre sul versante religioso e sul versante direi invece propriamente umano pregare e studiare si sostengono a vicenda e si relativizzano pure a vicenda la chiesa è un'assemblea di persone può essere edificata solo pregando e studiando e ancora celebrando e discutendo celebrando cioè parlando col signore ma anche discutendo tra di noi e viceversa e ancora amando e lavorando la voce verbale direi di timbro più religiosa è di quella di timbro più profano più secolare più laico insieme pronunciate queste parole la comunione è di fatti esercizio di dialogo anzi direi di logopedia la logopedia è quell'esercizio terapeutico per i bambini che sono affetti da afasia da incapacità di parlare bene è un esercizio è un esercizio di logopedia si tratta di imparare ad ascoltare per poter corrispondere noi non parliamo a volte bene perché non sentiamo la pronuncia perché soffriamo più che di mutismo di sordità si tratta di imparare ad ascoltare per poter corrispondere si tratta di apprendere i linguaggi anche quelli gergali i termini convenzionali per potervi tradurre dentro un nuovo senso evangelico leggiamo ancora negli appunti di Dompino a questo proposito un prete deve saper dialogare almeno su quattro fronti con la realtà con gli altri con se stesso con Dio e ancora annota sapere ascoltare significa andare oltre le parole per entrare nel mondo dell'altro a volte intendere ciò che le parole veramente vogliono dire anche se sembrano dire un'altra cosa per questo bisogna dice lui imparare perfino il gergo delle persone con cui parliamo pensate a Brancaccio un certo gergo una certa parlata mafiosa impararla per non essere che so io gente che parla con gli arabi ecco per farsi capire e per capire ma stare nel mondo significa anche testimoniare con efficacia anche se con umiltà e senza fare baccano al modo del chicco di frumento che si perde tra le zolle ma poi porta frutto come Don Pugli si spiega ai suoi giovani di Brancaccio il 18 febbraio 1993 sono parole sue con cui concludo questa riflessione occorre diceva i suoi ragazzi ai suoi giovani a Brancaccio occorre tentare di muovere tutto l'ambiente per cercare di dare un modello di comportamento per spingere persino le autorità a fare il loro dovere vedete come c'è quell'imbrinding che risona che riecheggia del 1982 la predica nei funerali del generale dalla chiesa del cardinale Pappalardo sì si tratta di dire in faccia alla mafia che è mafia ma si tratta pure di dire agli altri a quelli che mafia non sono o non appaiono che anche loro non sono pienamente nella giustizia se rimangono indolenti inerti inefficaci immobili di fronte alla mafia stessa per spingere le autorità a fare il loro dovere perché tutti a poco a poco si sentano coinvolti e continua noi vogliamo rimboccarci le maniche per dimostrare che si può fare qualcosa e come già dicevo prima se ognuno di noi fa qualcosa allora si può davvero fare molto nel ricordo di Don Pino Puglisi direi anche sulla scorta del suo passaggio della sua testimonianza della sua martiria grazie intanto volevo ringraziare il carissimo Don Massimo perché ci ha dato elementi preziosi non solo di riflessione ma direi anche di lettura che possiamo portarci dentro e che può diventare anche poi motivo di condivisione di convergenza ecclesiale rispetto al cammino della nostra Chiesa vorrei salutarvi così Don Pino Luzzi sapete che ha voluto anche dedicare al nostro Don Pino un po' del suo estro poetico diceva che lui resta seppur assente compagno e lo dobbiamo sentire così come lui è stato capace di farsi realmente compagno è un compagno che ha condiviso il cuore stesso del Vangelo che è questa compagnia questa presenza di Dio che entra dentro che si coinvolge non solo che si umilia che si abbassa ma dal di dentro assume la nostra vita allora noi lo sentiamo ancora così Don Pino perché sentite una Chiesa che vive sotto la luce del Vangelo sub Vangeli di luce una Chiesa dunque che abintramundi dal di dentro del mondo dentro una Chiesa che gusta la sua missione dal fatto che accoglie il dono della comunione io mi vorrei portare già solo questo dalla sua testimonianza di uomo che ha intrattenuto una relazione con il Signore dentro una concreta esperienza ecclesiale e sociale una relazione per Don Pino la fede è relazione una relazione che segna la sua la sua vita per cui la sua testimonianza è compagnia in atto ecco perché la nostra Chiesa non può che vivere questa compagnia che continuamente ci chiede di accogliere di accogliere quanto lui lui d'altra parte ha maturato qui vi voglio ricordare che è uno di noi di questo territorio direi di questo nostro tempo uno di noi di questa nostra Chiesa palermitana da qui è nato non da altro non d'altrove per cui sento proprio il desiderio in riferimento alla testimonianza di Don Pino che stasera appunto abbiamo potuto gustare insieme attraverso anche l'accompagnamento di Don Massimo ecco questa testimonianza che insieme alle altre delle serie precedenti oggi ci portiamo è una testimonianza particolare che ci tocca perché realmente ancora di più stasera lo sentiamo compagno compagno di viaggio e dunque se compagno è chiaro che quanto lui ci testimonia e quanto noi dobbiamo saper accogliere perché questo è quello che riesce a fare il Signore nella nostra Chiesa in questo territorio nella misura in cui ognuno di noi ha la gioia e nella misura in cui le nostre comunità hanno la gioia di accogliere la grazia di una fede che diventa relazione che segna tutta la vita Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male a il Signore sia con voi sia benedetto il nome del Signore il nostro aiuto è nel nome del Signore e la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre di Dio Onnipotente